E' dura la posizione dei sindacati che puntano il dito contro le prospettive incerte di Clara, la multi-utility che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani in 19 dei 21 comuni della provincia di Ferrara. Nell'Assemblea dei Soci che si è tenuta lo scorso 23 dicembre, i sindaci di 5 comuni nell'Alto Ferrarese e Comacchio, aventi la maggioranza delle quote, hanno contestato i costi, la qualità del servizio e gli aumenti di tariffa di Clara. In pratica i sindaci hanno votato contro se stessi, sottolineano CGL e Cisle Will. I cittadini devono sapere che Clara è al 100% di proprietà pubblica di tutti i comuni della provincia di Ferrara, tranne Ferrara e d'Argenta. Non votare o votare contro alla propria società significa anche fare un danno d'immagine alla propria società, non predisporre un piano industriale, non mettere nelle condizioni il proprio consiglio d'amministrazione che ricordo è nominato dai sindaci, il proprio presidente, alla predisposizione di un piano industriale, significa non fare il bene della propria società e siccome questa è una società che eroga un servizio di pubblica utilità, è far del male ai propri cittadini che si amministrano. Nata nel 2015 dal processo di fusione tra RSPA e CMV raccolta, oggi Clara Ambiente serve 200.000 utenze e conta 450 addetti. La società ancora non ha presentato all'Agenzia Territoriale Regionale per i Servizi Idrici e Rifiuti un piano economico-finanziario che porta agli attuali diversi livelli di tariffa ancora non unificati, tra l'altro il basso ferrarese. Il futuro della multi-utility potrebbe allargarsi ad un bacino unico, veramente mai decollato, ma anche ritornare alla divisione del territorio esistente prima della fusione tra RSPA e CMV raccolta. È legittimo che una proprietà faccia delle scelte, ma che le faccia però. Non è che ogni giorno si cambi idea e ogni sindaco dice la sua per cercare magari di portare a casa una tariffa diversa per il proprio comune, perché l'azienda è unica, il piano finanziario ed economico è unico e l'approvazione è un'approvazione unica ad oggi. Poi si può sempre modificare le proprie opinioni. Modificare opinioni è segno di intelligenza, modificare un po' troppo spesso è un'altra cosa. Noi proponiamo un'iniziativa pubblica dove chiameremo il presidente di Clara, il direttore di Clara, il rappresentante di Attersir a livello locale, tutti i sindaci che vorranno partecipare e devono spiegarci quale sistema tariffario e qual'idea del mondo del lavoro. Come si svolgerà il servizio di raccolta dei rifiuti? Continuerà a essere ancora diluito nel tempo? Incrementeranno le tariffe? Sarà massacrata l'azienda per cui il futuro di quei lavoratori non vedrà una garanzia adeguata? Sarà fatto uno spezzatino di quell'azienda con un processo di esternalizzazione importante per cui si scaricheranno i costi sul mondo del lavoro? Cioè vorremmo capire qual è l'idea che la politica, che gli amministratori di questo territorio hanno per quel pezzo di responsabilità che attiene alla raccolta dei rifiuti. Votando contro i bilanci o astenendosi sui bilanci sia della sanità sia dell'azienda Clara, chi è stato eletto dai cittadini per amministrare la cosa pubblica viene meno a quello che è un proprio compito è anche un proprio dovere, cioè sceglie di non scegliere.